Ciao, eccoci con un nuovo video. Come anticipato la settimana scorsa, oggi andremo a vedere una delle possibili dimostrazioni del limite notevole che coinvolge il numero di nepero. Devo ammettere che ho provato a fare questo video in diretta su YouTube perché mi interessava testare un po' quella funzione, così magari potevo ricevere in diretta le tue domande se ne avessi avute, però ho visto che dopo una mezz'oretta non riuscivo a farla partire condividendo lo schermo e quindi ho deciso di fare una cosa un po' più spiccia come al solito in questo modo, in cui mi vedi in faccia però il soggetto principale è appunto il PDF in cui ho scritto questa dimostrazione. L'idea della dimostrazione è di definire in maniera comoda il numero di nepero E e poi sulla base di questo, e lo faremo con una classica successione che è associata molto strettamente al nostro limite notevole, andremo poi a dimostrare che allora il limite per x che va più infinito di 1 più 1 fratto x alla x fai proprio il nostro numero di nepero. Ora per farlo dobbiamo dimostrare due proprietà, in realtà ne basta una ma la seconda ci dà qualche informazione interessante sul valore che assumerà il nostro numero di nepero. Sulle stime del numero di nepero potrai fare qualche video, magari sulla parte più numerica, e se può interessarti magari lascia un commento sotto al video, così so che può piacere a qualcuno e magari più avanti lo porterò. Partiamo quindi con la successione ADN che è definita in questo modo, 1 più 1 fratto n. Questa è una successione di numeri reali, positivi e strettamente maggiori di 1. Quello che vogliamo mostrare è prima di tutto che è una successione monotona e in particolare strettamente crescente questa. E poi quello che andremo a fare è quello di mostrare che è anche limitata tra 2 e 3. In questo modo potremmo dire effettivamente che il numero di nepero sta in quell'intervallo. Quindi vediamo intanto che è monotona, quindi la proprietà 1 che ho scritto qui è che è strettamente crescente come successione. Allora, la nostra successione, e quindi prima in effetti ti ho detto una cavolata, comunque è crescente come successione. Quindi noi abbiamo che A con n, perché dobbiamo prenderne la potenza ennesima, quindi in realtà questa non è 1 più 1 fratto n, ma è solo la base della nostra sequenza. Quella che ci interessa è questa alla n. Ok, scusa ma l'ho preparato un po' velocemente, comunque l'importante è che l'idea pian piano arrivi. Ok, quindi questa successione che non è A con n, ma è A con n bar, sia strettamente crescente. Per mostrarlo cosa facciamo? Prima studiamo A con n e poi A con n più 1 e vediamo come sono messi tra di loro. A con n, che è questa qui, il termine ennesimo della sequenza, e quindi vedi che qui è scritto correttamente, lo possiamo sviluppare con il famoso binomio di Newton, di cui ti ho parlato, o comunque a cui ti ho introdotto nel caso tu non lo conoscessi già, nella libreria, nella playlist sulla storia della matematica. Qui abbiamo appunto il coefficiente binomiale n su k, le somme sui k da 0 a n, e 1 su n alla k sarebbe poi per 1 alla n meno k, ma 1 per se stesso, numero finito di volte, non dà problemi. Quindi questo è quanto. Poi cos'è che possiamo fare? Possiamo espandere il coefficiente binomiale, e quindi rimane sopra al numeratore n per n meno 1, fino a n meno k più 1. I termini inferiori, più piccoli, vanno a elidersi, a semplificarsi, con n meno k fattoriale, che comparirebbe dal coefficiente binomiale. Poi, una scrittura abbastanza chiara e intuitiva di questa frazione qui, è quella di spezzare l'n alla k e spartirlo per ogni fattore che compare al numeratore, in questo modo. Ne abbiamo esattamente tanti quanti sono i fattori al numeratore, quindi k. Cos'è che facciamo? Questo, poi possiamo anche eseguire delle operazioni tra queste coppie di elementi, quindi n su n fa 1, e lo scriviamo qui. n meno 1 fratto n si può scrivere come 1 meno 1 su n, e allo stesso modo procediamo per gli altri, fino all'ultimo che è 1 meno k meno 1 fratto n. Ora, se invece di n mettessimo n più 1 ovunque, otterremmo a n più 1, che è l'n più unesimo elemento della nostra sequenza, e si può scrivere quindi analogamente in questo modo. Ora, è abbastanza intuitivo accordersi che la nostra sequenza è strettamente crescente. Come? Beh, li accoppiamo i nostri termini e vediamo che non solo la nostra somma, che definisce a n più 1, ha un termine aggiuntivo, che è un termine non negativo e quindi di sicuro ci garantisce un qualcosa in più. Perché abbiamo una somma sui k fino a n più 1, e non fino a n e basta. Ma abbiamo anche un qualcosa in più. Infatti a coppie i termini 1 meno 1 su n e 1 meno 1 su n più 1 sono in questa relazione, e allo stesso modo anche gli altri. Quindi ogni termine che compare qui, questo è uguale a questo, ok? Questo è minore di questo, questo è minore di questo, e quindi, essendo tutti a coppie in questa relazione d'ordine totale, quindi, possiamo dire che a con n è minore di a con n più 1, e questo vale per ogni n naturale. E quindi abbiamo mostrato che la nostra sequenza, la nostra successione, è strettamente crescente, quindi è monotona. A questo punto abbiamo già l'esistenza di un limite, per un teorema che probabilmente se hai già fatto l'analisi 1 avrai di sicuro visto, come il teorema di esistenza di limite di successioni monotone. Ora, può essere interessante capire in che intervallo sta questo limite, visto che comunque useremo il limite di successione a n per definire esattamente il numero di nepero. Per farlo usiamo il fatto che è una successione crescente, quindi mostriamo che 2 è minore di a con n, minore di 3 per ogni n. Come farlo? N è maggiore di 1, altrimenti se mettessimo un minore uguale, 2 è minore uguale di a con n, potremmo includere anche n uguale a 1. Quindi, a con n è crescente. Quindi vuol dire che a con 1 è minore di a con 2, minore di a con 3 e così via. Ma a con 1, che lo si trova mettendo semplicemente 1 al posto di n nel termine generale della sequenza, è 1 più 1 fratto 1 alla 1, che è 2. E quindi tutta la sequenza, essendo maggiore di a con 1, è allora maggiore di 2. E quindi la prima parte della nostra dimostrazione è fatta. Come fare la seconda? Beh, dobbiamo usare una semplice analisi, che è scritta qui accanto a questo segnale di pericolo. Abbiamo che k fattoriale è per definizione il prodotto dei numeri naturali minore o uguali a k. Quindi è 1 per 2 fino a per k. Ok? Ora, cos'è che abbiamo? Abbiamo che tutti i numeri naturali tra 2 e k sono maggiori o uguali di 2. Quindi questo è maggiore o uguale di 1 per 2 per 2 k meno 1 volte. E quindi questo possiamo scriverlo come 2 alla k meno 1. Potresti chiederti, se non hai mai visto questa dimostrazione, a cosa serve fare questa cosa. Però adesso lo vediamo subito. Infatti andremo a ottenere una serie di potenze convergente e questo ci aiuterà a concludere. a con n, che è il nostro termine generalizzato della sequenza, l'elemento generico a con n della sequenza, è scritto ancora come prima in questa forma qui, e abbiamo che ogni elemento che compare a fattore qui è minore o uguale di cosa? Di 1. Perché ogni volta che andiamo a costruire questo fattore generico della serie, abbiamo che ad 1 andiamo a togliere una quantità non negativa. 1 su n, o k meno 1 su n. E questo perché k ricordiamo essere minore di n e maggiore di 1. Ok, quindi è perfetto. Ogni termine di questo prodotto può essere maggiorato con 1. Quindi abbiamo che 1 su k rimane, e questo è minore strettamente di somme sui k che vanno da 0 n, di 1 su k fattoriale. Ok? Ora, 1 su k fattoriale sommando da 0 ad n può essere scritto come 1 su 1 fattoriale, più le somme sui k che vanno da 1 a n di 1 su k fattoriale. Ok? E quindi lo facciamo in questo modo. Ora, 1 lo lasciamo qui, perché ci aiuterà nel risultato seguente. E poi andiamo a maggiorare questa somma qui con la relazione che abbiamo visto prima. Infatti prima abbiamo visto che, ah, è qua, k fattoriale è maggiore o uguale di 2 alla k meno 1. Quindi passando ai reciproci, 1 su k fattoriale è minore o uguale di 1 fratto 2 alla k meno 1. E questo è esattamente quello che usiamo. Ok? Quindi maggioriamo il termine generico della somma e quindi tutta la somma sarà maggiore o uguale della somma precedente. Ora però serve una considerazione, ovvero, a parte, vabbè, un cambio di indici, cambio di variabile, qui invece di k abbiamo k più 1, e quindi, no, k meno 1, scusa, così che la somma parte da 0 e va da n meno 1, e qui abbiamo 1 su 2 alla k. E a questo punto possiamo fare una semplice analisi che ci permette quindi di concludere. Questa somma può essere maggiorata con la somma dello stesso generico elemento, 1 su 2 alla k, però è stesa con k che va più infinito su tutti i k naturali. Questo perché semplicemente andiamo a aggiungere quantità non negative, quindi di sicuro otteniamo qualcosa di strettamente più grande. Però questa è un qualcosa che probabilmente hai già visto. È una serie convergente. È una serie convergente a cosa? A 1 fratto 1 meno un mezzo. Ok? Quindi sotto cos'è che rimane? 2 meno 1 che fa 1. E sopra andiamo a buttarci il 2, quindi il risultato di questa serie è 2. E quindi il tutto sarà minore stretto di 3. Ok? E quindi abbiamo concluso, diciamo, questa relazione d'ordine sulla sequenza con n. Non era fondamentale per mostrare che sia possibile definire la e come il limite di questa successione. Tuttavia è comunque utile per dire che siccome il limite di questa successione è strettamente crescente, esiste ed è uguale al sup, all'estremo superiore della sequenza, con n naturale, allora abbiamo anche che questa relazione d'ordine si preserva per ogni a con n e quindi anche per il sup, che è quindi minore di 3. Ok? Quindi questo è interessante. Ora, però, abbiamo solo definito la e. Dobbiamo però ancora arrivare a mostrare che il limite per x che va più infinito di 1 più 1 su x alla x faccia e. perché la successione è definita sui numeri naturali, non sui numeri reali. Ok? Quindi dobbiamo mostrare questa cosa qui. Come farlo? Beh, questa è appunto la definizione che abbiamo ottenuto fino a questo punto, no? Abbiamo ottenuta mostrando quanto meno che abbia senso definirlo in questo modo. Come possiamo procedere? Beh, dobbiamo sfruttarla, la definizione. E quindi definiamo n essere la parte intera di x. Qua puoi definirla come la parte intera o la parte intera inferiore, non è importante. In realtà potresti trasformare un po' il tutto mettendo anche la parte intera superiore, se preferissi lavorare con quella, ma non è importante. parte intera inferiore, quindi n è minore o uguale di x, che è minore stretto di n più 1. Perché, se non avessi mai visto cos'è la parte intera, è il più piccolo numero intero minore o uguale del numero stesso. E quindi di sicuro se deve essere minore o uguale del numero stesso, non può essere n più 1. Ok? Passando ai reciproci, chiaramente la relazione d'ordine si inverte, come abbiamo visto prima. E quindi segue che 1 fratto n più 1 è minore di 1 su x minore o uguale di 1 su n. Sommando 1 ad ogni elemento di questa relazione d'ordine, essa si preserva. E quindi otteniamo questo. Ok? Benissimo, ora però ricordiamo che le potenze di numeri strettamente maggiori di 1 definiscono una funzione crescente. Quindi, vuol dire che se noi elevassimo a potenza tutti questi tre elementi della relazione d'ordine, avremmo un qualcosa che si preserva nella stesso ordine. Quindi, è questo che andiamo a riprodurre qui, no? Ricordiamo però che n è la parte intera di x. Ok? Quindi c'è uno stretto legame tra n ed x. Ok? Quindi, prendiamo la potenza ennesima di 1 più 1 fratto n più 1. n è minore o uguale di x. Ok? Quindi, questa è minore o uguale della potenza xesima dello stessa base. Ok? Ora però, possiamo procedere con la stessa relazione d'ordine sulle basi di questa potenza. E sappiamo che 1 più 1 su x è maggiore di 1 più 1 su n più 1. E quindi, questa vale. Allo stesso modo, 1 più 1 su n è maggiore o uguale di 1 più 1 su x. E quindi, otteniamo questa. Ok? E poi, chiudiamo con la relazione d'ordine che abbiamo usato in partenza per la monotonia della funzione potenza con base strettamente maggiore di 1. Chiudiamo dicendo che siccome x è minore o stretto di n più 1 anche quest'ultima relazione vale. Ok? E a questo punto siamo quasi pronti a concludere. Perché? Basta una semplice riscrittura al momento e poi, grazie al teorema dei carabinieri o al teorema del confronto arriviamo al nostro risultato. Infatti, 1 più 1 su n più 1 alla n può essere scritto in questo modo. 1 più 1 su n più 1 alla n più 1 per 1 più 1 fratto n più 1 alla meno 1. Quindi, dividendo per questo fattore si può riscrivere questo in questo modo. Ok? Magari non ti è chiaro subito il perché che abbia senso farlo, però comunque va bene. Questa, allo stesso modo, si può scrivere come 1 più 1 su n alla n per quello che manca. 1 più 1 su n. Ok? E a questo punto siamo pronti a concludere. infatti, a meno di un cambio di variabile, quindi invece di n più 1 magari mettiamo m, se lasciamo andare n a più infinito e quindi in realtà sotto sotto stiamo lasciando anche x andare a più infinito visto che x è contenuta tra n e n più 1, abbiamo che questo limite va ad e. Per quanto abbiamo mostrato prima, infatti, lui va ad e direttamente e lui va a 1. Ok? E quindi il tutto va ad e. Allo stesso modo anche questo. Questa parte qua va a 1, questa parte qua va ad e per definizione in realtà, perché su n la successione abbiamo definito avere, l'abbiamo definita in modo tale che il suo sub, il suo limite sia esattamente e. e quindi questa vale per forza. Ora però cos'è che abbiamo? Per il teorema dei carabinieri se un elemento che è più piccolo sempre di 1 più 1 fratto x alla x tende ad e con n che va più infinito e quindi con x che va più infinito e allo stesso modo un altro elemento tende anch'esso ad e con x che va più infinito ed è sempre più grande come abbiamo appena mostrato, infatti questo vale per ogni n e quindi per ogni x abbiamo che allora anche il limite della parte intermedia della parte contenuta è controllata da sotto e da sopra sia è anch'esso e e quindi abbiamo mostrato che il limite per x che va più infinito di 1 più 1 fratto x alla x è uguale ad e ora per completare la dimostrazione in realtà si potrebbe perfezionare il tutto mostrando che e è un numero irrazionale e questo è un po' da mettersi diciamo nella parte prima a questa dimostrazione e soprattutto mostrare che questo limite anche con x che tende a meno infinito e faccia e e quindi questo si può fare per completare la dimostrazione comunque volevo proprio fornire un'idea della traccia di come dimostrare questo risultato perché è abbastanza dato per scontato o comunque preso come definizione spesso mentre gli altri limiti notevoli seno di x su x o logaritmo di x più 1 fratto x vengono comunque tutti dimostrati perché la dimostrazione non è troppo complicata e spesso si basa su questo limite notevole questo è preso come definizione spesso non solo in superiori ma anche in altri corsi universitari può succedere e quindi ci può stare secondo me un video in cui vediamo quanto meno l'idea per dimostrarne il risultato bene con questo direi che abbiamo detto tutto quello che mi interessava dire se hai qualche domanda o hai qualche preferenza per video futuri lasciami un commento sotto il video che così possiamo un po' concordarci e vedere come procedere benissimo ti ringrazio se sei arrivato fin qui a vedere il video se ti può far piacere farlo vedere anche ad altri amici magari condividilo dove più ti piace e è sempre importante per me che tu ti iscrivi al canale se ti piace quello che faccio e se ti interessano questi video sulla matematica da un punto di vista didattico o divulgativo in base un po' a come mi gira bene ti ringrazio ancora per la visione e ci vediamo al prossimo video ciao